... Alberto, benvenuto finalmente, è il caso di dire. Sì, sono molto felice, molto contento. Sono stati due mesi di trattativa, però sono veramente contento. Perché Palermo? Palermo perché era da un mese e mezzo che avevo dato la parola al presidente ed è stata l'unica squadra che veramente è concretamente arrivata. Pronto, come stai? Sto bene perché da tre mesi che lavoro, lavoro davvero forte, quindi sto molto bene, però deciderà poi il mister. E ai tifosi cosa vuoi promettere? No, grande impegno e adesso devo pensare solo a lavorare e basta. Grazie a tutti, ciao ragazzi, ciao, 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 la prossima settimana poi facciamo conferenza. Ciao. Grazie a tutti. Di fronte qua? Sì, sì, vai. Sì, sì, vai. Grazie a tutti.